Enrico Oviszak, è finita questa preparazione che ti ha visto protagonista con la prima squadra, ultima amichevole con il San Luigi che ti ha visto anche andare in gol, quindi è coronato con una bella soddisfazione questo finale di precampionato. Sì, sì, dici bene, è stata una preparazione che è servita molto, per tanti punti di vista, sempre allenarsi con questi grandi giocatori ti ispira, ti dà molte motivazioni e ti aiuta tanto a crescere, soprattutto per ispirarti a loro, per come ragionano, per come giocano, perché il pensiero di questi giocatori è uno spirito diverso dal calcio dilettantistico, sono motivazioni che sono da esempio da prendere. Quando ci si allena con giocatori più esperti, è inevitabile prendere qualcosa di buono da parte di tutti, c'è qualcuno in particolare da cui hai attinto qualche segreto e cercato di carpire un poco della sua esperienza? Guarda, allenandosi con tutti, giocatori che mi vorrei ispirare di più ovviamente è De Paul, che comunque è un grandissimo giocatore, mi piace sia come stile di gioco che come mentalità, e quindi speriamo di fare il suo percorso. Adesso pronto a portare quanto maturato in questo mese con la prima squadra, invece nella formazione primavera, che è quella della tua età, inizia un campionato importante con l'obiettivo di ritornare in primavera 1. Dici benissimo, l'anno scorso purtroppo c'è stato questo passo indietro da parte del gruppo, che purtroppo ci ha fatto retrocedere, alcuni errori ci hanno fatto retrocedere, e ovviamente quest'anno col gruppo più compatto che mai cercheremo di riportare in primavera 1 questa squadra, che secondo me merita quel posto.